Cari amici followers, i soliti maligni vociferano che il Vaticano abbia fatto uccidere, tra l'altro, anche i reali di Monaco, in quanto famiglia di irriducibili etero, quindi quelli che vedete sono solamente dei sosia. Curiosità, sembrerebbe che l'originale Charlotte sia stata trovata prigioniera e in dialisi, perché agli etero deve essere tolto almeno un rene, proprio dalle parti dove mi hanno plurifratturato. Ma poiché le donne sono la cosa più importante, speriamo che l'abbiano riportata a casa. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi!